Alexa Abramovic fresco della consegna del premio Varese Sport nel senso che non l'hai ritirato, l'hai dato tu? Non ho preso niente Tu l'hai vinto l'anno scorso, l'hai consegnato quest'anno? Eh sì, lo so, è un onorario ancora, un onorario perché tanta gente importante ha dato i trofei a ragazzi che hanno vinto e anche per me, io sono molto orgoglioso per questa cosa che mi ha dato il trofeo per dare il premio più grande, più importante Tu non ti offendi se io ero più felice quest'anno di darlo alla Gennari che l'anno scorso a te, meglio lei? Sì, 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 sempre donne prime, donne prime sempre Signore prime sempre Senti, l'anno prossimo? Possiamo anche non rispondere? No, 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 posso parlare, non ho neanche un'offerta non ho parlato neanche con il mio agente voglio prendere un paio di giorni per restare per stare lontano dal palacanestro poi dopo inizio con allenamenti e pensiamoci fra dieci giorni, una settimana. Quindi in questo momento l'unica offerta vera che hai avuto è quella di venire alla redazione di Varese Sport, è l'unica? Anche Varese Sport è una di più, come si dice quando voglio, una di più, non importante, più forte, una degli più forti e vediamo, devo pensare, devo scegliere. Noi abbiamo tempo, ti possiamo anche aspettare, una decina d'anni, quindici, quanti anni vuoi giocare ancora? Io voglio fino a 38-39. 39-15 ne hai ancora? Sì, 15. 15 anni, perfetto. Male che vada, fra 15 anni sei a Varese Sport. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille per i prossimi 15 anni. Adesso posso spendere tutti i soldi perché il lavoro mi aspetta. Ciao.